Ciao a tutti ragazzi, sono vero 91 all'ora, aspettate un attimo, ho riacceso una luce grande, così mi vedete meglio. Oggi ho avuto questo. Voi mi domandate, cosa c'è dentro? È praticamente un album con un sacco di fogli. Quindi io ho messo, ho messo, così, perché è la più, la più, la più è molto piccola. È molto piccolo, però va bene, per metterci di poche carte. Ho messo la posizione più comoda, così sono un po'... E' arrivato le magre, così sono un po' più scomoda, raga. Così... 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 E' arrivato la mia madre, guarda, così sono scomoda. vi faccio vedere il foglio proprio così è più comoda così è più comoda posso farvelo girare così vi faccio adesso questo oggi mi ha fatto male molto la pancia ragazzi comunque ho ancora mal di pancia ma io dovevo far vedere i video di cosa ho comprato di quest'album del cavolo quest'album che è stato venuto oggi però stavo male e ho dormito oggi ho fatto molto il piccola e ho dormito erano le 4 quando ho dormito erano le 21 ore 19 quando ero sveglia ragazzi il piccola e ho dormito allora devo fare il video voglio fare veloce perché se arriva papà mi trova per terra è un macello ecco qui mi si pancia e torna che non è stato ma vabbè non ci se ne frega quando da solo da solo lui ha una vita propria da tutti noi quindi niente questo me l'aveva regalato la mamma me l'aveva comprata la mamma perché io ho un sacco di album che ha papà però dobbiamo rimettere forse ho questo così ho pikachu così e poi ho pikachu che dorme non so se mi vede eccolo qui faccio così li faccio rivedere e nel mente li metto nell'album non so se mi vede non so se mi vede questo è sorta un album bellissimo c'è una cosa epica perché queste sono quelle che io avevo nella scatola una doppia di quelle doppie raga non l'ho messo ragazzi quelle doppie raga non le ho messe erano uguali vedete ve le sto facendo rivedere e lo sto rimettendo ovviamente come vedete nel mio album nuovo questo è stato anche facile a portarselo perché te lo puoi anche benissimo portartelo ovviamente dietro l'argento questo è l'argento questo è l'argento questo è l'argento e oro così così e poi questo è l'argento cos'è il mio album che mi aveva regalato mia madre è l'album che mi ha regalato mia madre e sono contenta sono molto contenta però cos'è la fine ok e poi no prima va questo raga o prima questo perché c'è anche quello giapponese va prima questo e poi va questo e poi va questo ho finito l'album praticamente questo c'è Pikachu così questa è davanti cioè Pikachu così con la che fa ciao a forma da sfera e qui Pikachu dorme praticamente questa è la cerniera così e questa te la puoi mettere così ok noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao